benvenuti ragazzi benvenuti in questa nuova in questa nuovissima maradona salutate raga geni tu non saluti? geni è morta che cosa? ehi ma non vieni su gta oh no dai dopo vieni ma perchè che stai facendo su fortuna? devo togliere alcune delle merda ah fai il tiktok e vieni però devi abbassare la voce geni perchè sennò fa copyright adesso voi due che stai ci stai zitta che cosa? dove ci vediamo? ci vediamo al casino dove c'è la ruta a che cosa possiamo parlare solo quando o quando ci chiamiamo o quando ci chiamiamo o quando stiamo vicini ok? mo diciamo non possiamo parlare ok? però mo facciamo finta che ti chiamiamo drindri oh fra ci possiamo vedere un attimo al casino? no dentro il garage ci vediamo al laia ciao guarda dove è il porto ecco già stavo nel live e stiamo da un minuto eh vai da vale ma che cosa sta sta in live lo potreste scrivere? grazie ma che cosa ieri dove avevo educato con mio fan con livello 308 aveva la macchina di di batman ci ha fatto fare una missione dell'apocalisse mamma mia francese ecco perché è durato tre ore ieri la maratona come francese ma te gli ho problemi te andando a casino vieni tu hai fatto si hai fatto ah ecco ma comunque è inutile che muo vado su fortnite perché tanto i negozi oggetti già lo so sai perché? lavate ma poi sono prima di tutto perché già sono sono entrato su fortnite e poi che co ho il caso negozi oggetti e poi me lo sono uscito direttamente dal negozi oggetti ma che co tieni una taglia no che co guarda qua ti posso far vedere una cosa un'arma vieni vieni un attimo qua vieni un attimo e io però non ti sparo giuro dobbiamo entrare nel paccheggio dobbiamo entrare nel paccheggio e ti devo far vedere una cosa giuro che non ti sparo guarda guarda la vedi la tomicon si si metto con la tomicon il suo livello 49 è tutto il livello 53 ma tu tieni quello là che spara 50 colpi è quello di 40 oh ma sta sempre quello là in live però manca scritto eh ma forse Vincenzo Vincenzo scrivi se sei tu è vero che l'ho messo in tem out eh tanto tempo fa perché spammava di dici lui vuoi venire sopra a forza mentre stavo poi soggettiva eh beh lei va la eh l'ho tolto però lo stesso non gli fa scrivere quale è il problema boh entro pure io in live eh se devo vedere i messaggi li vedo sopra ma tu vieni di me telefoni oh no non c'è scusse no un po' me ne entrano due di spettature ci sono io e pure un altro a me è bella sta macchina è bello posso dire a me è bello ieri un mio amico ce l'aveva piccola però vera velocissima che cosa questa qua sono le macchine più potenti di tutto il gioco ma a me buona giornata no che come fai a girare a me oggi non ho girato proprio per ieri buona giornata buona giornata ciao ciao no speriamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo faccio cose e vedo gente eh sì in che senso andiamo ora per quanto per due così guarda buona giornata la maglietta ma io ma io ma io ma io sa per cosa serve la maglietta bu i prezzi bu ma potete la nella canale buono ci vediamo c'è pure un'altra la ti rubano posso dire ma che con me piaceva GTA diciamo se nascivi dalla pancia di tua mamma come nella vita reale poi c'era un capitolo che dovevi morire e spavarvi con un'altra vita capito? quella serie è bello allora c'è questa cosa guardami guardami lo sai in pena? che cosa? non lo so scemo no che? che cosa? vogliamo fare un po' di missioni ecco allora speri ah stai mi devo andare prima mi manda con l'arma hai detto le missioni? eh vabbè Gina allora tu vuoi venire? sì o no? avevo distrutto un attimo la macchina perché? perché mi ordino un'altra macchina quella macchina scocciata ma tanto la ordini dopo ecco no? ecco no? ecco no ecco no ma tieni la pula levala no no mai so levala no non me ne prego non me ne prego non me la levi non me so sordì non me so sordì non me so sordì non me so sordì geni dove? dove? ci sei o sei morta? no no dove vale? ok no geni c'è geni si vuoi muoversi? ma la 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 Anzi, invece di andare ci rispettiamo da venire. Dove eri andata? Ora andiamo a casa. Andiamo a dormire. Checco, che hai fatto? Checco, questa qua è quella che si gioca con il livello 50, vero? Allora, vieni pure, tu va. Ma la prendo, è a casa. Voglio me la prendo? Va bene. Allora, tutto con le munizioni. E me la, no, non me la posso fare con il livello. No, oro non me la posso fare, devo arrivare al livello 75. Che cosa? Dove il colore te la sei fatta? La oro. Ah, ma quella dal 39.000, ti hai preso? C'è, ma un po' te. Sì. Ma non me la... Me la so presa pure io. Ma io non lo so, non me la mano è sporca. Lo so che cosa, non lo scioppone. Allora, sì. Sì. Ma che arma bella. Sì. 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 Ma perché non ti mette paura questa? Signora. Ah, ok, non ti metti paura. Pensavo. Che cosa sta rientrando? Ma la tua sorella perché tieni il microfono disattivato? Tieni il microfono disattivato, dici che lo attiva. Che c'è mister? Che c'è mister? Che c'è mister? Che c'è mister? Sì. Sì. Eh, vado in vita. Ecco, ma vedi la tua sorella perché tieni il microfono disattivato? Eh? Non si vuole far sentire. Eh, dici, ma non... perché dici, ma non vuoi venire su GTA? No, lei no. Ginny? Sì. 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 E io. Stiamo facendo questa maratona. Mi piace. Sì. 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 No perché ho? che è la prima PS4 uscita ma che c'entro? sarà no a me francese questa qua è uscita in 2019 questa qua che tengo io capito c'è la mia nel 2013 2000 e 13 ma anche tu che play hai? la prima e PS4 la prima e tua sorella è uguale la tua quella di tua sorella no quella di mia sorella è come la tua ah la mia uscita pure a lei non proprio il 2019 non è uscita il 2017 ecco può entrare pure da solo perché atti non ti posso invitare potresti entrare pure da solo Franci Ginevra allora si o no? aspetta eh ci stai pensando a troppo eh non la posso vuoi venire su GTA eh no perché giocare un po' con il problema manco un aereo no no aia aia o che cacca ho chiamato proprio l'aereo l'ho chiamato ma scusa perché la mia macchina non può salire sopra l'aereo eh io fermo allora allora è venuta un'idea che co mamma mia franci che idea allora se io all'elicottero lo parcheggio qua però senza decollare allora piano piano no no aspetta no perchè mi sta venendo un'idea eh ma quello devo ordinare però è il motorino quello è il problema dovrei ordinare il motorino fa se ci riesco franci mamma mia dovrei fare vai un po' più avanti fatto devo ordinare solo il motorino mamma mia franci come sta venendo in mente mamma mia di provare a mettere il motorino sopra l'aereo pure se il casca non fa niente cioè il motorino sopra l'aereo eh devo provare posso provare pure a salire con la macchina però quello è difficile questa qua aspetta forse ci riesco ecco un'uomo in franci dobbia andare in colta però va un molto bello sono angeli ok vai pronto che co io ci devo io ci devo io vado eh l'ho superato troppo piano eh 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 è gratis ma che ne so è gratis ma che ne so a no ma puoi giocare online scusa è gratis Quanto costa? Per te 70 euro sono gratis Faccio 2 Ma si può giocare online? Scusa Non lo so Ma comunque non me lo compro Poi c'è la golden edition Da 100 euro In che senso scusa Golden edition Pure 30 euro Ma i sedi del pianto coso Stanno 300 euro L'ultima edizione Da 110 euro Eh? Eh? Sotto 100 euro? Poi? I pacchetti 1 resta 10 1 resta 10 1 resta 5 Lo faccio E 1 resta 5 Guarda sta facendo Guarda sta facendo E' che è che sta accadendo? Lo pazzo Ma scusate Voi sapete dove corre tu? Certo Ma questo corre Voi sapete dove va Ma perchè non fai uno schianto? No bo No bo Ma ci capite perché si scarà Ah Oh Oh Un show E' fatto da 100% In testo No Ma tu sei su cittina Ma tu sei su cittina Ma sono la posizione No perchè privata c'è Ma ti devo l'unido Un video Un video Un video Un video No mi sta ponendo alla sessione Vabbè Ma evitami Stai evitato? Ma che suona ha fatto il mio telefono? Perché mi hai evitato Ma guarda cosa fa? No Perché mi hai evitato Perché mi hai evitato Perché mi hai evitato E mi dice quando mi hai evitato Ma come si chiama? Ehm Ma il mio pc è un' evitato Ah Capito Ti puoi comprare il giorno Oh ma questo mi sta guardando malamente Io voglio Che ti una guarda Eh no Eh no Che ti una guarda Prima tu Ah ci chiamate non manca l'erno Non capo Perché hanno girato E non mi hanno manco E non mi hanno manco scoperto c'è la polizia qua davanti a me non mi hanno visti c'è una cosa 5 mila euro non mi vedi più eh? quando ho una polizia perché... la polizia? non mi hanno sciopie insomma non mi hanno visto non mi hanno visto non mi hanno visto ma... ma... è vero? è ci riesce a trasferire il colso cosa fa? aspetta aspetta comunque Vincenzo è andato da Martina perché vuole l'unicorno ma che c'ho da no? è leggendario è leggendario però se è secca si ma che coi? ma quelle... che ci posso fare? non so è l'unico pet che... fly and ride che c'ho? per ogni amico ho dato il mio... il mio ultimo pet ride per un unico allora che co? c'è se tu ti compi tante uova no? e poi te le metti a scambiare ce la fai se vieni casa tua ce la fai ti rendi come capito? adesso vieni da fia ha messo Gine! Gine si è mutata una volta Gine, smutati un attimo Ginevra Ginevra ma chi è che sta roccando? da sole a casa? no chi c'è a casa? no no ok questa stanno rando sta una piccigata eh? ho rispito è un'altra cosa ma che sto qua ho fatto un incidente vabbè ma fa un culo oh che spacci Gigi vai all'aria forza no ti sto venendo a piu' io francese no già l'amore ah ma fa quello fatto io guidavo l'aereo e tu devi mettere il copo motorino ma fa ma fa quello oh che facciamo ma quello ma quello lo sai forse adottami lo tolgono proprio cosa adottami fra 5-6 mesi forse lo tolgono no lui non lo tolgono capi francese si non lo tolgono ah boi ho guardo il dog mega flyer ride ah boi fa niente qui non ha niente ah boi ho strisciato tutte le palle a terra oddio che è ma ho fatto un incidente che ti è successo proprio da a casa mia c'è a casa mia c'è a casa mia ma no che co quanto stava questa cosa esce a tutte le palle ma nella vita reale stai facendo no no come fa gta andava velocissima ora è vita reale luigi luigi c'era questo con la macchina ah ma stavo iniziando la vita reale stavo iniziando no la macchina la moto andava andava a mente in veloce che ha fatto girare la macchina ma è in vita reale si si ma vicino a casa tua si nel palazzo di casa mia ma hai visto quel ragazzo che è morto è stato investito eh si mica stai dicendo quello no che co fermo nato ecco vada qua però due oggetti vicini vicini ah fermo nato fermo fermo rimani la che co fermo allora e vati eh dopo ti vuoi prendere l'altro oggetto tu ma che dopo tu non ti preoccupare non ti preoccupare guarda che non ti faccio niente mi scusa che devo fare si ma io ora che devo fare non va non lo so no no eh però devo 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 si ma guarda quante roba ha si che cosa è questo ho visto no che cosa aspetta fermo 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 calma guarda guarda faccio vedere devi prendere quella rampa l'hai preso accettato no vai fammi vedere guarda faccio vedere non mi ne voglio vedi guarda fai così non prendi diciamo tanta rincorsa fai così direttamente così e così devi salire sopra l'ala eh non guarda proviamoci guarda eh no ma fatti l'altro moon devi andare piano quello è il problema capi? no devi andare piano secondo me lo devi mettere un po' più lontano no però aspetta allora ah ah no era andato bene fat no ce l'ho c'era salito che hai visto si devi andare piano guarda guarda lo sape lo sape solo lì ciao no prova a metterli sopra la mia moto ehiii però dimmi se alcune volte devi sprintare ok no no stai sopra la mia moto che cosa ah ok lo faccio una volta fai metti che possa guidare si la puoi guidare o no non la puoi guidare no veicoli tutti vai Aspetta Io prima ho fatto amici Vedi adesso Aspetta Che vedi adesso Luigi Si è volato Luigi Ma non stai io Vi provo a salire Vuoi salire normale Vuoi salire sopra l'ala No Aspetta No no è però stato fermo allora Eh sì vabbè Ecco cazzo No moto Ne ha cari Prova a salire Eh aspetta Oh ma no Ha rimbalzato la moto Vado Eh la voce a francesi C'è lì 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 Lo tengo per la caduta Sì Luigi ti faccio una scia Sì C'è lì Ecco E' speso pure Dall'helicotter Ecco Non è già fuoco Cosa sta bruciando Cosa sta bruciando Cosa sta bruciando Non è bene Cosa devi bruciare Stavo bruciando Da solo Stavo bruciando Da solo Stavo bruciando Da solo Dice Gineva se vuole venire Gineva va Cioè come Oh Scendi tutta la mia moto Dite la cosa Dite la cosa Dite la cosa Eh so di te di te fra Dite la cosa Dite la cosa Dite la cosa Dite la cosa No l'aereo militare Sì E dove sta Eccolo Oh lo prendo io Sì Ma che cosa Si può prendere L'helicottero Sopra un aereo No L'helicottero No Ma provà C'è No no Sì 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 ci provo Sali sopra il jet Sali sopra il jet Sali Sali Eh ok Ma io ho provato il primo soggetto Se si può prendere No no Io ci provo Non mi ho f**to Io ci voglio prima o no Aspetta Tanto non ci metto niente Aspetta 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 Guarda Ci sono pure altri decenni Fermo eh Ma se si può prendere Giuro Eh no Che è troppo grosso Guarda è proprio da Vieni sotto lì me Vieni Ma forse ti piglia capoce Devi dici Forse ti piglia capoce E' lui Vieni Aspetta E' lui Sto accendendo di battare le ricotte E' proprio là Tissimi se Tissimi se proprio là eh Bra Vieni qua Vieni qua Vieni qua Doveva comunque con l'apocalisse e zombie dovevamo apocalisse Colpa all'apocalisse dovevamo 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 uccidere la mary wader No ma che perché sto da qui Ma che Aia 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 Lo so io Qua Ma stai a pesare il mio coso Scus Già Ma che costano quattro oggetto Ma che cazzo Ma che cazzo Oh Ah No Amo già Ok Forse se te lo metto giusto Prova Vai Nooo Dai Prova Vai Lphramo Pok Perl's E Pok una macchina bella però ma cosa c'è? no aspetta adesso arrivano sotto a te ce la pregi? sai sai emm ci riesce a ripartare? ma che cazzo no aspetta magari ci riesco aiuto no no guarda 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 ci sono riusciti mamma mia boom ma sei scema oh che bella questa macchina è qua ma te la porto ah ma sei forte sore davvero? sali sali aspetta qui due le 4 milita vai ah ma piglia il jet 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 no io piglia il jet no io piglia il jet f**t p***a prendiamo due jet ah facciamo gli aerei che poi dopo ci dobbiamo scontrare ah che scontro per titani c'è dalle le 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 ciao io dai gol ciao che si vede con l'afro tagli le ruote che talmente succede che la vita reale umano tu non hai mai fatto un viaggio su un aereo io no dice io quattro chicco però fermo un attimo dove raggiungere dove vai ma venato ma non sei andato in acqua no sto camminando no no è che copero devo ti devo prendere fermo un attimo fermo fermo oh sto qua non mi posso scappare fermo sto fermo ahhh ti hai tamponato ahhh sto tamponato manci no 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 il tamponamento in aria oh no non è che il compoete hai fatto veramente un po' il tappone no eh no era per scherzo si gini gini però non ti ha mutato solo leggi il tampono si ma ti muo' il tampono oh se è arrivato un po' nate fermo 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 che qua non farei nel cine che qua che qua che qua fermo ti ho detto davvero go oh che giù c'è il posto marco per la macchina riandiamo all'aeroporto ma perchè si scemo il piano è una macchina bella allora vai con la tua macchina no c'è guarda una mia no non me la voglio guardare guarda sto dietro di te auguri che costa dietro di te però gini hai intendo mutare gini ti posso invitare france ferma un attimo ecco ti odio e ti sto invitando un cazzo sta ancora nel rango 12 g nero mi si forte c'è io 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 sei scarso che schifo oh nonna che sta nella limusina eh che schifo ah eh ma ci sono andato pure moccasort ah quanto ah diciamo ova ferma ci devo seguire facciamo una garacca di patrick eh qua cazzi si devi fare si devi fare che cosa ho bloccato mi aspetti eh no Noi Eh Volevo ti recupero in due secondi Volevo dire che ora Volevo Volevo schiacciare la testa Is Allora stai Oh fermo un attimo Fermo Ti sta fermo Mi sto fermo Ci vedo proprio Ti vedo che ti stai muovendo Lui Gini non mi sto dovendo Che cosa è più assorto No e io ho già Gini vieni con la macchina Oh No sono caduto Ma che è successo Volevo dire che ho per in due secondi guarda Ha giocato il palo Quanto no Non mi dire che è andata Alla sopra la moto che giro bestemmia Che è morto Quella normale No è normale È normale È normale È normale È pisella Ma Così è pisella È normale È normale Io sto piangendo Io sto piangendo Ho preso un palo Ho preso il palo Ho preso il palo fratelli Gini sta venendo Dammi il camion Dammi il camion Gini però non ti devi mutare Che cazzo Dammi il camion Che com'è che tua sorella ti muta Non ti muta Ehi ma Gini non ti mutare Non ti mutare Che cazzo cazzo Con una macchina Con un meccanico Quelli con i camion sono sempre aggressivi Sì Ma sempre cattivi Si vedono che vengono Da Barislanda Che com'è dove sei? Non so come Molto bella Ma sei laggiù? A quanto vuole? Mi so seduto Mi so pure seduto Vabbè Ma ci sono due poliziotti Ma me li uccide a macete Uno E due Proprio in testa glielo ho date Che co' E Gini Che co' Non l'ha gi fatto No Oh uno mi sta inseguendo E auguri E' l'ora di trovare l'arma E' l'ora di trovare l'arma del momento Sì Tu ste cosi a terra Ti maceto Ti maceto Ti maceto Ah 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 Eppure a mia mamma macetato Vediamo di giro Il codito a macetate Luigi con l'elicottero Quello lì C'è ma Vediamo Della Del militare Li provi a prendere sto col cane E' il camion 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 Sali con me Sali con me No ma ci sta accendo Boom Pure la nonna ci fa Nonna Boom Nonna Boom Boom Bum non va tu la fangeli se rimani ferma ti venga a prendere con l'aereo però fangeli di venire pure tu è vero? matti quella è un anger via 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 no quella no ecco arrivo un attimo metti in un basto mamma mia sono troppo forte è fermissimo vedo vedere la tomba di pier no dai non ci posso ah no ci posso che qua allora entro nel mio aereo ok che qua ci metto a gini ci metto 5 minuti però se stai in una strada se ci passano macchine in quella strada boh questa qua come si dice ma ci sono le macchine e lui ci sono due gel io sto bisogno eh gini sto provando che cosa vieni con me no io lo prendo con un altro gel ok sono le macchine in una strada ma ci sono le macchine in una strada che cosa ci stai in una strada tu la vicina a te tiene un mare vero? no, sono delle montagne eh lo so ma sono alte o basse queste montagne ecco dovremmo parcheggiarci sopra qualche montagna ma sta andato troppo alto ecco tu, stai andando in alto tu io ci ho qui ci però vai un po' più piano questo è il massimo rimani un attimo fermo non tocco niente, giuro rimani fermo no che tu mi va tu mi tamponi ahhh 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 ma sei in prima persona che ecco che dobbiamo fare la vita reale ecco ma dove sei? ah sei più alto di me? volevi però ci... ecco stai perdendo il controllo o no? si stiamo ancora in live si stiamo ancora in live Gini stiamo facendo una maratona ehhh si maratona ecco dove sei? ah ma sei troppo basso addati io voglio fare la rapida no 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 che cosa ti vedo ti fermi? guarda che raggedi tampona ahhh via che come vedi? geni se ci riusciamo facciamo le emissioni eh ma le emissioni facciamo i soldi eh ma le emissioni facciamo i soldi ma ce mi sto schiantando ooooh e allora perchè dobbiamo fare le rapine scusa no geni tengo 3 milioni io dai che poverta eh perchè me l'hanno dato loro Luigi 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 stop Luigi che è? dove sta andando? lui come ti scrive? un maro franci lui come ti scrive hacker? hacker Luigi 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 dove sta a fare franci? no 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 che co no che co no vero ma stai perdendo il controllo ma come fai? sta fumando sto fumando sto fumando sto fumando si no ma stai qua sopra Gini ah metti le ecco metti le ruote eh lui ci do però Gini c'è chi viene là sopra? lui Gini non ce la faccio Gini ce la facimmo ma dai prova a atterrare che co ma dai oh però penso di venire una frena eh ci stiamo provando Gini per poco per poco non ho preso a fuori Gini prova a venire eh 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 guardami dove mi son messo Gini quello è il problema eh mi so dove farsi atterrare qua sopra Gini che cosa tu non atterrare eh guarda 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 io dove sono a te è toccato Luigi guarda dove sei? ma dove sei? ma dove sei? Luigi guarda nooo Gini lui è andato lui ci è andato e lo devo spostare solo un poco l'aereo aereo spostati aereo spostati meglio però no così poco ah bravo a me sei spostato ci riesco ad entrare no che si è messo storto metti la domanda ahhh eh Gini l'aereo si è messo proprio storto quello è il problema qua sai? l'aereo si è messo storto ahhh ahhh ma lo vedi il mio aereo? no guarda mi sta cadendo tutta la montagna l'aereo guardalo 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 a me non va a me non va ma dove cadi? non è capito che come sei messo il mio aereo? eh pure il mio eh perfetto eh perfetto ma perchè non ci potete ordinare una matanna dici perchè mi diceva il meccanico che ora non è capito se ne è andata no 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 ma io lo sai ma stai la bacia ma stai la bacia ma non ci ma non mi veste ma non mi veste ma non mi veste ma non mi vede lo sai ahahah Gini ho preso ho preso ho preso la curuma Gini mi ha presi mi ha preso no ma no 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 Luigi vuol fare il brito in questa ganga la ganga del mister ministro fermo un attimo francesi fermo fermo un attimo no lui ci metto me no me l'ho fatto che siete fratelli ecco ma uscite a lei ahia ma l'investito tengo preso la curuma no no io faccio mi uccida vediamo si mi ha fatto spunto 5% evo spessi ma fa io a cosa da generale ha uccido le mazzate dove sta checo ma qua da noi sali un attimo francesi non sali un attimo no no mi sta girando la moto allora mi ha fatto gare a bacio la zoccola no non si dice si dice e da me si dice punto la mia macchina sto a fanculo canci no la mia macchina gini vieni di qua è stata la scelta luigi dobbiamo prendere a ginello guarda come sto corre ti spero ti spendo ti svegli ha fatto esplodere la moto HELI VAI VAI ok che contro qua ci sono io però Girei non mi devi uccidere che abusca la rustale dove mi porti oh polizia c'è tutta il palla ok lui c'è noce come sali in coppa a me non mi f***o sali sali la moto a te non mi f***o sali sali ok ti è esplodato di nuovo la moto vengo vengo arrivo che poi prima gli ho fatto esplodare la moto ti rendi conto Girei bravo venissi o no se vabbè Girei se ti vuoi far tamponare da me va bene però spara muoviti a sto cazzo dispera ma stai scema ma stai in prima persona almeno Girei si ma è moda è messo la d'asta ma è moda è messo la d'asta uè moreri no a poi Girei a poi Girei a poi 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 ma è messo la d'asta mi f***o adio mi f***o mi f***o mi f***o mi f***o E prima di tutto leva la cula, leva la cula, leva la cula, devi chiamare Lester, ma almeno non è poco, che cosa? La cula ti deve poco massacrata, non può, che cosa ho fatto andare allora avanti, te stai conti, non c'è, ciao polizia, perché? Faccio io, faccio io, stai cotto, Luigi, non è cotto mio, Gini ma sei scemo, che cotto, no tua sorella è scema, tua sorella è scema, avevo messo, avevo toccato la puna, lei me l'ha messo di mano, Luigi, Luigi, tu ne vieni qua, mi distruggi molto, no, vieni qua, no, che cosa, stiamo in città, e stiamo in città, che devo fare? La gruma ci vuole tanto tempo per farla esplodere, è natato, noi sempre ci ne scappiamo, eh, bello Gini, ma che stai sparando a me? Guarda qua, guarda che hanno fatto posto e blocco, guarda, no, zio, che devo fare? Che hai detto Gini? fatto, ma ti invito, vai, fatto, lui che devo fare? Lui che devo fare? No, oh, se tu lo puoi prenderlo, lo puoi, lo vedete, per il T-Rex, suo Fat House Ride, l'ho rifiutato io? no, è rifiutato lui, no, io, cretino, vabbè, perché mattinai, se vedi quella cosa no, Gini, ma vieni, no, sali un attimo, entriamo dal parcheggio, vabbè, te, come hai fatto? pirla, come hai fatto? Ecco qua, che modo era? Che modo era? Lui era una bomba passive, e quante me ne aveva seccate? Una, guarda, fa, perché si, perché i centi Gini? Oh, no, fermare, spero dal sceo, allora, no, Gini, ferma, 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 Gini, si sta ferma, sono Gini, ferma, ma dobbiamo andare, ferma, Gini, dai, ci fattuava in muro, no, guarda, ok, manca una volta, sentate, casino, in culo, in culo, in culo, in culo, che comincia a vedere, che comincia a vedere, in culo, in culo, in culo, ok, guardami, vediamo che mi diceva, aspetta, un altro vento, crede, frecce, ok, non si preoccupa, prova, non ero io, era Ginevra, si, Ginevra, tu, non rompere il cazzo, che cosa, questo martello andrà a questo, se vuoi venire a vedere, vieni a vedere, aspetta, questo martello, pure a questo, oh, no, a me, dentro, guardami, che cosa, ma uno guaglioso, aspetta, ferma, levati, 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 mamma mia, via, dvuro vero, te l'ho detto, oh, dvente nero, ma che bomba è, che bomba è, tu, 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 bomba, no, è arrivata l'ambulanza, adesso non fa, non so che non so che mi, abbiato vero, guarda giù a tu, no, e come la cavo pure da solo, non tirò qua, levati, che corre, levati in altro, che hai fatto, frangi, ha detto Ginevra, fatto una sorpresa, che so più, no, come si fa, a vincere il premio a sorpresa, che ne so, perché Ginevra è uscito, e devi cliccare qualcosa, se hai qualche garage, che corre, avvenne in ambulanza, e venne in ambulanza, meno furti, apri le porte di dietro, se si possono, eh, le devi spaccare, no, non è vero, spazia, devi provare, prova a spaccarle, non si possono, non si possono, non andare dietro, se mi vuole aiutare, devi toccare, no, mi serve un attimo, quando sei così, non lo so, noi, mi serve un schiazz. Se체, la scusa come vuole aiutare, ilpresa verso il safhas, 으�를SCopert, come vuole, vuole opposto, eного, non si potrebbeよ dissi guarda, ma quanto cosa hai pagato? ma tanto non fa niente intanto un milione 3 milioni eh non ci crederò non ci crederò povera eccomi capo una investita alla polizia ok capo oddio non mi sai per un aiuto che hai detto? a fa cosa? e mai perchè io voglio farina però e la facciamo? boh una maratona potrebbe durare un'ora si dai ciao